La BCC di Aquara presente sull'intero territorio di Salerno e provincia con 16 filiali, non dimentica le proprie origini. Così la banca di credito cooperativo di cui è direttore generale Antonio Marino ha stipulato con gli eredi d'Angelo l'atto di acquisto dello storico palazzo d'Angelo ubicato ad Aquara in piazza San Lucido. Il consiglio di amministrazione della BCC di Aquara presieduto da Luigi Scorziello ha infatti ritenuto di acquistare il prestigioso immobile d'inizio 1800 per dotare la banca di una sede storica che distaccata dallo sportello presente nel centro degli Alburni sia una sede di rappresentanza e di ancoraggio presente e futuro al territorio che l'ha generata affinché non vada mai disperso il ricordo delle origini umane e geografiche. La BCC Aquara infatti venne costituita nel 1977 ad Aquara grazie al contributo di 199 soci fondatori, tutti acquaresi. Nel tempo gli uffici amministrativi per ovvi motivi di praticità rispetto al territorio salernitano e dalle filiali della BCC di Aquara che vanno dalla Valle dell'Irno a Salerno alla Piana del Sele, alla Valle del Sele, agli Alburni, Valle del Calore e dal Cilento si sono dovuti trasferire a Capaccio Pestum ma la sede legale e lo sportello numero uno sono comunque rimasti ad Aquara a testimonianza di un legame storico e sentimentale con il paese che ha dato origine all'istituto di credito. Il palazzo dopo gli opportuni lavori di ristrutturazione che avverranno nei prossimi anni sarà a servizio della banca e della collettività e potrà essere utilizzato come location per organizzare eventi e convigni di varia natura. Sarebbe bello immaginare anche un museo della banca con tutte le fasi e i documenti della crescita numerica e geografica, ha sottolineato il direttore generale Antonio Marino. Ha conferma che la BCC di Aquara non ha mai perso e nemmeno per il futuro intende mutare comportamento il contatto con le origini.